All'inizio continuavamo a entrare in luoghi sbagliati, librerie che vendevano volumi di seconda mano, o negozi stralipanti di vecchi aspirapolveri, ma di musica neanche lombra. Dopo un po' Tommy concluse che io non ero molto più affidabile di lui e che quindi sarebbe stato lui a scegliere dove andare. A dire la verità, e per pura fortuna, scoprì subito una strada con quattro negozi del genere che stavamo cercando, praticamente uno dietro l'altro. Le vetrine erano colme di vestiti, borsette, annuali per bambini, e una volta entrati si veniva accolti da un profumo stantio e dolciastro. C'erano pile di tascabili sgualciti, scatole polverose, rigurgitanti di cartoline o ninnoli. Un negozio era specializzato in articoli hippie, mentre un altro offriva medaglie di guerra e fotografie di soldati nel deserto. Tutti però conservavano da qualche parte, in un angolo, uno o due scatoloni con LP e cassette. Andammo a rovestare in quei negozi, e in tutta onestà, dopo appena pochi minuti, mi sembra di ricordare che Judy Bridgewater non fosse più al centro dei nostri pensieri. Stavamo lì, semplicemente, felici di godere di queste cose, tutte insieme. Ci separavamo poi per ritrovarci di nuovo fianco a fianco, magari a disputarci la stessa scatola di cianfusaglie, in un angolo polveroso illuminato da un raggio di sole. Poi naturalmente la trovai. Stavo scorrendo in tutta fretta una fila di cassette, sovra pensiero, quando all'improvviso, eccola, sotto le mie dita, identica a quella che avevo anni prima. Giudi, la sua sigaretta, lo sguardo un po' cochetto, rivolto al barna, le palme sfocate in lontananza. Non urlai di gioia, così come avevo fatto quando mi ero imbattuta in altri oggetti che avevano suscitato in me un po' di eccitazione. Rimasi immobile. Lo sguardo fisso sulla custodia di plastica, incerta se essere felice oppure no. Per un istante ebbe persino la sensazione che fosse un errore. Il nastro era stata la scusa perfetta per quei momenti di felicità e adesso, che era saltata fuori, avremmo dovuto fermarci. Forse fu quella la ragione per cui, con mia stessa sorpresa, all'inizio restai in silenzio, perché pensai di fingere di non averla vista. Adesso che stava lì, proprio davanti a me, sembrava esserci qualcosa di lievemente imbarazzante in quella cassetta, come se ormai fossi troppo grande per lei. Arrivai al punto di continuare a scorrere varie cassette e lasciare che un'altra la seppellisse. Ma il dorso della cassetta non smetteva di fissarmi e alla fine richiamai l'attenzione di Tommy. È davvero quella? Sembrava autenticamente scettico, forse perché non stavo dando in escandescenze. La presi e la tratteni con entrambe le mani. Poi all'improvviso provai un piacere immenso. E anche qualcos'altro, qualcosa di più complicato, che minacciava di farmi scoppiare in lacrime. Poi tratteni l'emozione e mi limitai a dare uno strattone al braccio di Tommy. Sì, è lei, disse, e per la prima volta sorrisse al colmo dell'eccitazione. Ci credi? L'abbiamo trovata per davvero. Pensi che possa essere la stessa? Voglio dire esattamente quella, quella che hai perso. Mentre la rigiravo fra le dita, mi scoprì a ricordare tutti i dettagli grafici sul retro, i titoli dei brani, ogni cosa. Per quel che ne so io potrebbe anche essere, dissi. Ma devo avvertirti, Tommy. Potrebbero essercene migliaia in circolazione. Poi toccò a me notare che Tommy non appariva triunfante quanto avrebbe dovuto. Tommy non sembri molto felice per me, dissi, anche se con un tono deliberatamente canzonatorio. Certo che sono felice per te, Cat. È solo che... beh, beh, avrei dovuto trovarla io. Poi accennò un sorriso e disse Quella volta, quando l'hai persa, nella mia testa ho ripensato un mucchio di volte a come sarebbe stato se l'avessi trovata e te l'avessi portata. Cosa avresti detto? La tua faccia? Tutto quanto. La sua voce era più dolce del solito e teneva lo sguardo fisso sulla custodia di plastica che avevo in mano. D'un tratto mi resi conto che eravamo le uniche due persone nel negozio, fatto eccezione per il vecchio, dietro il bancone all'entrata, che era assorto nel suo lavoro d'ufficio. Si trovavamo proprio nel retro bottega, su una piattaforma rialzata in una zona più buia e appaltata, come se il vecchio non avesse voluto prendersi cura delle cose che si trovavano lì e mentalmente le avesse cancellate. Per alcuni lunghi istanti Tommy sembrò immerso in uno stato di catalessi e per quanto ne so, stavo ripensando a una di quelle sue vecchie fantasie su come avrebbe fatto a restituirmi la cassetta perduta. Poi all'improvviso me la strappò di mano. Beh, perlomeno posso comprartela io, disse sogginando e prima che riuscissi a bloccarlo era sceso e si dirigeva verso l'entrata. Prosegui a curiosare nel retro bottega mentre il vecchio dava un'occhiata in giro per cercare il nastro corrispondente alla cassetta. Continuavo a sentire una dolorosa stretta al cuore per averla scovata così in fretta e fu soltanto dopo, quando rientrammo ai cocktail e io mi ritrovai sola nella mia stanza, che apprezzai fino in fondo quanto fosse importante per me avere di nuovo la cassetta e quella canzone. Anche allora provai soprattutto un moto di nostalgia e adesso, se mi capita di prendere in mano quel nastro e riguardarlo, ripenso a ogni istante di quel pomeriggio nel Norfolk e i giorni trascorsi a Heilsham. Usciti dal negozio, non vedevo l'ora di rivedere quell'atmosfera spensierata e un po' sciocca di poco prima. Quando però iniziai a fare qualche battuta, mi accorsi che Tommy era immerso nei suoi pensieri e non ebbe alcuna reazione. Ci incamminammo su per un sentiero alquanto scosceso e scorgemmo, forse un centinaio di metri avanti a noi, una specie di belvedere all'estremità della scogliera dove si trovavano alcune panchine affacciate sul mare. Per una qualunque famiglia normale, quello sarebbe stato un luogo ideale per fermarsi e fare un picnic d'estate. A dispetto del vento gelido, ci trovammo a spingerci esattamente verso quel punto, ma quando eravamo ancora abbastanza distanti, Tommy rallentò il passo e mi disse «Chris e Rodney sono ossessionati da questa idea. Sai, quella di poter posticipare le donazioni se si è davvero innamorati. Sono convinti che noi siamo al corrente di tutto, ma nessuno ha mai accennato a niente del genere, a Hansham. Perlomeno io non ne ho mai sentito parlare. E tu, Cat? No, è soltanto una voce che ha fatto il giro dei veterani negli ultimi tempi. Le persone come Ruth l'hanno alimentata. Lo osservai attentamente, ma era difficile capire se aveva pronunciato queste parole con affetto un po' malizioso oppure con una sorta di disgusto. Mi accorsi tuttavia che aveva qualcos'altro in mente, nulla a che vedere con Ruth. Così non aprì bocca e rimasi in attesa. Alla fine si fermò del tutto e cominciò a dare qualche colpetto col piede a un bicchiere di carta ammaccato che aveva trovato per terra. A dire il vero, Cat, ho riflettuto un po'. Sono sicuro che abbiamo ragione noi. Nessuno ci ha mai detto niente del genere quando eravamo a Halsham. C'erano tantissimi aspetti, però, che sembravano non avere senso allora. Ci ho pensato su. Se questa voce è vera, allora si spiegherebbero molte cose. Cose che ci lasciavano perplessi. Che intendi dire? Che genere di cose? La galleria, per esempio. Tommy aveva abbassato la voce e io mi ero avvicinata. Proprio come se stessimo ancora a Halsham a chiacchierare mentre eravamo in coda per la cena vicino al laghetto. Non abbiamo mai veramente scoperto a cosa servisse la galleria perché Madame portasse via i nostri lavori migliori. Adesso però penso di saperlo. Cat, ti ricordi quella volta che si discuteva dei buoni? Se fosse lecito prenderli oppure no in cambio di quello che portava via Madame? E che Roger e andò a parlarne con Miss Emili? Beh, c'è qualcosa che Miss Emili disse in quella circostanza? Qualcosa che si lasciò sfuggire e che mi ha fatto riflettere? Due donne con i cani al guinzaglio ci passarono accanto e sebbene fosse una cosa assolutamente stupida rimanemmo in silenzio finché non si furono allontanate su per il pendio e fuori portata d'orecchio. Poi dissi Che cosa, Tommy? Cos'è che si lasciò sfuggire Miss Emili? Quando Roy le chiese perché Madame portasse via i nostri lavori ricordi cosa ci saremmo aspettati che dicesse? Ricordo che ripeteva sempre che era un privilegio e che avremmo dovuto essere orgogliosi Già, ma non fu così La voce di Tommy ormai era quasi un sussurro Quello che disse a Roy che si lasciò sfuggire e che probabilmente non intendeva lasciarsi sfuggire Ti ricordi, Kat? Lei, disse a Roy che cose come la pittura la poesia e tutto il resto disse che rivelavano ciò che eravamo dentro di noi disse che rivelavano la nostra anima Quando pronunciò queste parole d'un tratto mi ritornò in mente un disegno del suo intestino che aveva fatto Laura una volta e mi venne da ridere Qualcosa però stava riaffiorando alla memoria Hai ragione dissi Adesso mi ricordo e quindi cosa vuoi dimostrare Questo è ciò che penso proseguitò Tommy lentamente Immagina che sia vero quello che dicono i veterani Immagina che esista davvero un accordo particolare per gli studenti di Heysham Immagina che due persone affermino di essere veramente innamorate e che desiderino dell'altro tempo per stare insieme Quindi Kat ci deve essere un modo per giudicare se dicono la verità che non fingano di essere innamorati soltanto per posticipare le loro donazioni Capisci com'è difficile decidere E se una coppia credesse davvero di amarsi ma fosse solo una storia di sesso o una infatuazione Capisci cosa voglio dire Kat Sarà tremendamente difficile giudicare e con ogni probabilità è impossibile non sbagliare mai Ma il punto è chiunque decida madame o qualcun altro hanno bisogno di qualcosa su cui basare i loro giudizi A noi lentamente Allora ecco perché portavano via i nostri lavori Potrebbe essere Madame da qualche parte possiede una galleria piena di cose che appartengono agli studenti da quando sono piccolissimi Immagina che due persone saltino fuori a dire che sono innamorate Lei può ritrovare i lavori fatti nel corso degli anni Può rendersi conto se vanno bene insieme se hanno qualcosa in comune Non dimenticartelo Cat Ciò che lei possiede rivela le nostre anime Potrebbe essere lei a decidere se è una coppia che funziona o se si tratta soltanto di una stupida cotta Ripresi a camminare pian piano lo sguardo quasi assente Tommy si mise al mio fianco tenendo il passo in attesa di una risposta Non sono sicura disse infine Ciò che dici potrebbe certamente spiegare Miss Emily quello che disse a Roy e immagino che spieghi anche perché i tutori abbiano sempre pensato che fosse così importante per noi essere capaci a dipingere e tutto il resto Esattamente ed ecco perché Tommy mise un sospiro e proseguì non senza qualche sforzo Ecco perché Miss Lucy dovrebbe ammettere che aveva fatto male a dirmi che non aveva importanza L'aveva detto perché era dispiaciuta per me ma dentro di lei sapeva che aveva importanza invece Essere uno di Heysham significava poter godere di questa specie di opportunità E se i tuoi lavori non venivano scelti per la galleria di Madame questo equivaleva a gettare via la tua occasione Fu dopo aver pronunciato queste parole che mi resi conto improvvisamente con un brivido cosa stava cercando di dimostrare Mi fermai e mi voltai verso di lui ma prima ancora di riuscire ad aprire bocca Tommy si lasciò sfuggire una risata Se ho ragione beh allora sembra proprio che io abbia sprecato la mia occasione Tommy niente di tuo è mai stato scelto per la galleria forse quando eri più piccolo stava già scotendo il capo sai bene che disastro fossi poi ci fu quella storia con Miss Lucy lo so che le sue intenzioni erano buone era dispiaciuta pervevole e va a aiutarmi sono sicuro che è così ma se la mia teoria è giusta allora è soltanto una teoria Tommy dissi conosciamo fin troppo bene le tue teorie avrei voluto offrirgli un po' di conforto ma non riuscii a trovare il tono giusto e doveva essere evidente che continuavo a pensare a quello che aveva appena detto forse hanno molti altri modi per giudicare dissi dopo un istante forse quello era soltanto uno dei tanti Tommy scosse di nuovo il capo e quali per esempio Madame non ci ha mai conosciuti non si ricordava di noi come individui inoltre è possibile che Madame non sia l'unica a decidere ci sono probabilmente persone che sono più in alto di lei nella scala gerarchica persone che non hanno mai messo piede a Halsham ci ho riflettuto molto Kat tutto torna ecco perché la galleria era così importante e perché i tutori volevano che ci applicassimo con tanto impegno nell'arte e nella poesia Kat a cosa stai pensando? infatti mi ero distratta un po' a dire il vero stavo pensando a quel pomeriggio in cui mi trovavo da sola nella camerata e ascoltavo la cassetta che avevo appena trovato a me che danzavo stringendo al petto un cuscino a come Madame mi aveva fissata dalla soglia con le lacrime agli occhi persino questo episodio per il quale non avevo mai trovato una spiegazione convincente sembrava adattarsi alla teoria di Tommy e la mia testa mi ero immaginata di abbracciare un bambino ma naturalmente era impossibile che Madame lo sapesse doveva aver pensato che stringessi il mio amato tra le braccia se la teoria di Tommy era giusta se Madame era legata a noi all'unico scopo di posticipare le nostre donazioni quando in seguito ci fossimo innamorati allora tutto questo aveva un senso perché malgrado la sua usuale freddezza nei nostri confronti doveva essersi davvero commossa quando le era capitato di imbattersi in quella scena questi furono i pensieri che mi attraversavano la mente in quell'istante ed ero sul punto di rivelare ogni cosa a Tommy tuttavia mi tratteni perché non volevo avvalorare la sua teoria stavo semplicemente ripensando a quello che hai detto spiegai è ora di tornare potremmo metterci un po' a trovare il perché torniamo sui nostri passi lungo la discesa ma sapevamo di avere ancora tempo e non affrettamo il passo Tommy gli chiesi dopo aver camminato per un po' ne hai accennato a Ruth?